Ragazzi, ragazzi, rieccoci qua su The Callisto Protocol. Dunque, siamo un po' nella cacca, come in tutti i giochi horror o semi-horror. E niente, siamo diventati dei detenuti di sta prigione, dove probabilmente, anche se non ce l'hanno ancora detto, ma secondo me sarà un po' la solita storia, dove stanno compiendo strani esperimenti con dei detenuti, anche contro la volontà, cioè l'imprigionamento è ovviamente anche contro la volontà delle persone stesse, magari persone che sono capitate un po' qui per sbaglio, come il nostro protagonista, dove tanto vengono dati per morti e quindi nessuno li cercherà mai, no? Però, questi esperimenti, come sempre, sono andati fuori controllo. Ci sarà sto virus, visto che il capitolo è chiamato epidemia, ci sarà sto virus che ha contagiato un po' tutti e boh... È un bel casino, un bel casino. Ehm, qui. Perché non posso interagire con sta cosa? Ah, adesso sì, prima no. Oh, qui, che cote... Cazzo sei entrata qui. Ma... Non c'è tempo per l'estero, scusate! Ma che... Vediamo le due, ci fai. Ehm, tutti schianti qui. E subito dopo va tutto a puttane. Oh, cinque due. Scusami, sai quando trovi? Che cosa? Dalla, 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 dalla. Sei diventato, sei speciale. E perché il direttore ti vuole vivo? Anch'io voglio quel bracciale. Questo è il mio rendimento. Anch'io lo voglio. Trova l'uscita. Io non credo. Ma non credo proprio, figurati. Cos'è il dispiacere di Ferris? Aspetta. A corse sul luogo di uno schianto poco fuori dai canzelli. Per ordine del direttore, accesso riservato solo al team di Mahler. Non l'avrei mai detto. Ma mi manca la vecchia direttrice. Almeno seguiva le procedure. Ok. La vecchia direttrice. Vabbè. Tu... Ah, nulla. Proprio fai parte dell'ambiente. Ferris non è palesemente morto. Sicuramente avrà assi nella manica. Magari leviterà. Non so. Però voglio sobracciarlo. Questo anche questo. Fa parte dell'ambiente. Quindi, boh, dopo il nostro schianto è andato tutto in... Cacciala. Vabbè, ma... Oh, tanto noi non ci ricordiamo. Questo? Questa roba è un Roomba. Ah, ci siamo noi. Passare ad accesso. Completato. C'è lo di sicurezza. Sì. Ma... Ma... Bene. Con sequenza. Qui. Io controllo sempre, ma... Mi danno... Cioè, non mi danno praticamente niente. Anzi, una volta siamo stati anche attaccati, questo... Ehm... Necessità. Fare ciò che è richiesto. Prendere decisioni difficili. Come nuovo direttore. Farò ciò che è necessario. Per voi. Per questa storica istituzione. Per l'umanità. Va bene. Ok. Trovo Elias. Oh, ma no. Ah, c'è un... È rotto? È rotto. Ok. Sì. Non è qualche componente? No. Questo? Sembrava un banco da lavoro, questo. Ma così a tradimento? Non si fa, eh. Cioè... Ah, mi ha pure preso. Ho capito. No? Eh, non me l'aspettavo. Maledetto. Eh, no. Vabbè, meglio così. Ehm... Che bello. No, meglio così perché... Inizia non me l'aspettavo. Ho aperto la porta. Eh, forse devo... Ah, era qua. C'è comunque. Va bene. Aspettare ulteriormente. Sì, va bene. Allora, apriti. Ah, ho capito. No. Forse... Anche quelli di prima erano uguali, alcuni. Ma... Non ci ho fatto caso. Bisogna proprio aspettare un po' di più. Perché fanno anche due attacchi. Quindi si fanno due attacchi. Il secondo comunque ti becca. Se ora mi da ogni porta, ma devo stare attento. Vabbè, io credo che se il combattimento... Sarà sempre così... Ehm... Credo che alla fine... Ci avremo che fare con un nemico alla volta. Almeno nel corpo a corpo. Perché... O gestirne due, non so... Se sia possibile. Però se troveremo qualche arma, magari... Ci sarà la solita orda. Di... Non so, non... Infetti. Non importa. A me sì. Ma scusa, se questo tecnicamente... Oh, è sempre stato in una cella. Andiamo, amico mio! Come fa a sapere... Tutte ste cose... Un po' di soldi. Questo sembra veramente un banco da lavoro, ma quanto pare non lo è. Ah, vedi? Salute piena. No. Ok, non sembra che non ci sia altro. Questo ci farà comodo. Dalla me. Portalo con te al reforge. Puoi usarlo per farti un'arma. Nel frattempo io mi infiltro nel sistema. Portarlo dove? Stampa un'arma al reforge. Ah... Stampante 3D. Ah, questo? Aspetta. Convertitore energia, munizioni, minitore salute, 800... 800. Stampa UJC, per ogni vostra esigenza. Ah, vendi... Vendi, ma... Aspetta. Pistola... Schioppo. Potente pistola di servizio. Potente è tutto da vedere. Comunque. Personalizzata con una configurazione concepita esclusivamente per Black Iron. Basata sulla piattaforma delle armi modulari UJC. Ah, posso prendere solo questo? Ah, perché come base ho questo. Ah... Sto essendo una stampante. Quindi ci sono praticamente... Cinque armi. Quindi bisogna trovare altre quattro basi... Da cui partire per poi... Ok. Vabbè, facciamo questo. È comodo, no? Ok, ci sono. Per uscire da qui ci serve una nave che tu sappia pilotare. So di una persona capace di accherare la rete e richiamare una nave dall'orbita. Peccato che sia in isolamento, massima sicurezza. Non sarà una passeggiata a arrivarci. Ti dà fastidio il coro? Sì, in continuazione. Quell'affarino ti frigge il cervello. Tranquillo. Ti ci abituerai presto. Un sacco di cose su questo posto. Già, ho avuto molto tempo. Quindi adesso all'isolamento? Tasta bassa e corriamo. Mi piacerebbe, ma non sarà così semplice, caro mio. Sono qui da un sacco di tempo e ho dei privilegi che tu non hai. Perciò dovrò portartici in un'altra maniera. Ti farò io da guida. Sarò i tuoi occhi e le tue ore. Ah, ma quindi gli serviamo forse solo perché siamo dei piloti. Perché lui magari non sa pilotare. Secondo me è così. Per questo ci dà una mano. Sennò potevamo anche morire. Eh, ma... Eh, appunto. Così aumentiamo la stabilità. Potenziamento caricatori. Abbiamo bisogno di 200 soldi. Ma io posso vendere. Tanto il convertitore... Aspetta un attimo che devo rileggere. Il convertitore... Ok, possono essere venduti. Quindi mi sa che è la loro funzione primaria. Quindi li vendo. Quindi... Ok, iniettore direi proprio di no. Con 300... Ah, no. Ah, ok, va. Ah, così va. Ah, quindi uno è manganello. Ci manca. No, munizioni per schioppo. Iniettore. Ah, no. Allora, la cosa che ho detto prima, no. E ci sono però due punti di domanda. Ok. Contrattacco in... Sblocca un nuovo colpo basso da zero per aver parato l'attacco finale del nemico. Apre la possibilità di ulteriori attacchi. Ma io potenziale la pistola. Poi... Stabilità... Danno... Danno... Stabilità... Probabilmente... È meglio. Ok. 196. Non possiamo fare altro per poco. Poi serve il 600 e il 1.8. Capacitare il caricatore... Vabbè... Fa vedere... 6 colpi... Ok. Sistema direzionale strategico... Dopo una combo di attacco in mischia, cerca un indicatore di colpo rapido sul nemico. Premi e ti metto il grilletto sinistro, poi premio velocemente il grilletto destro per agganciare automaticamente il nemico e spara per mettere a segno un colpo extra. Ma non so, eh. Tutto da vedere. Se è una cosa possibile. Aveva fame? Oh! Ma l'ha infettato subito. Iniziala. Eh però anche senza testa... No, ma... Ok. Anche senza testa funziona. Ah, così. Ok. Ok. Munizioni. Munizioni 2. Sembra che infetti gli altri trasformandoli in quelle creature. Prendi l'ascensore e scendi di un piano. Poi segui i cartelli per l'area medica. Ti faccio vivo io. Ma vediamo. No, sì, sono riuscito. Diciamo che ti dai un vantaggio forse magari polverizzandogli un arto così lui non è in grado di... Ti fa attaccarti due volte, ecco. Ah, ma si possono rompere questi affari schifosi? Magari hanno entro... Hanno entro qualcosa? Scommetto di no, eh. Cioè, magari quelle... Beh, bestie. Brutte. C'è uno lì Eludi il nemico Ma magari anche no Possiamo ucciderlo Uccisione rapida infatti Eludere Stiamo scherzando Poi mi dai soldi Eludo niente Solo le macchine No forse adesso possiamo combatterle Sta pistola Ma il tipo Aspetta Oh tu sputi No Senti No ho sbagliato Eh vabbè Ci ha preso una volta Un po' grosso Ah Meno mano Un po' di sita E cavolo Avevo l'arma scarica E ma infatti Uh sono rimasto con 5 colpi Sto ricaricando Ma non ricarica Eh ne ho sprecato qualcuno Eh Sì Eh forse conviene Mh mh Proprio usare Più il corpo a corpo Eh Se vuole venire giù Venga giù Senza troppi problemi Eh Per favore Buoni Eh Qui c'è roba No Qui si può Qui si può scavalcare Mi sa di sì Ho guardato Forse sì Non mi ricordo Ma qua Di qua Ok di qua si va Ma Per parto 3 Ah C'è nulla Ah no Ah Perfetto E due Due colpi Non esagerate Cioè devo aprire l'inventario Sì Per vedere le munizioni Forza Non c'è l'interfaccia Vabbè che Comunque una Buona scelta Poi di qua Non so Che di là C'era una via Ma anche di qua Sembra E non c'è una No Non c'è Almeno per ora Una mappa Nulla Quindi Forse di qua E Una via segreta Vediamo Qua c'è vita Ok dai Quindi la vita Mi sa che l'abbiamo Recuperata Fa piacere Bloccata No comunque per ora Prima impressioni Mi sembrano Positive Ricorda sì Molto Dead Space Però Hanno messo il corpo Il corpo a corpo Che Oddio Sono caduto No Così Non posso più Risalire Quindi forse Quindi forse di qua La via Boh Ah questo in inglese Attenzione Comunque dice È in mate Beh sarà Tipo prigioniero No Adesso Non lo so Di preciso Dice una cassa Troppo tranquillo No E ho sbagliato Dovevo Aspettare Non si capisce Niente Grazie No Caraca Vabbè Eh no Non devo usare la pistola C'è la pistola Devo usare a parte Nella maniera classica Secondo me Avanti il combattimento Anche se ci può Dove sono Aspetta Dove sono Sono Perso Ah Ah Addirittura Ah Proviamo a fare una cosa Aspetta Uh Mi ha preso Ah Ho sbagliato Vabbè Vabbè Tanto ci sono le Dai L'attacchio Una volta Sola No Oh Ahia È andata meglio No Non l'ho preso Eh Per risparmiare colpi Ho detto Eh Proviamo solo corpo a corpo Ma è andata meglio La prima volta Aspetta Quindi devo Vabbè Però Meglio Perché di là Allora Quindi si va Da qualche parte Vabbè Qua è tutta Apparenza Eh Tutta Apparenza Dove sei Allora Prendiamo questo Allora Vediamo di qua Visto che sono morto Così colpi E ho risparmiati Eh ne ho tre È vero Di scorta Qua non Abbiamo Qua ok Qui Qui c'era qualcosa Qua c'erano due colpi Mi pare No Vabbè Aspetta Ecco Ok Eh Perché si va Di quanto il combattimento Ti do una mano La pistola Però Vabbè Vediamo 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 Un po Qui non abbiamo visto Schifo Ah no Ok Però vedi Che anche di qua C'è Forse una via Forse no Eh vedi Anche di qua Quindi Boh Vado giù Vado di qua Secondo me Questa La via Principale Quindi io Vado giù Comunque ci servono Tutte le Insomma Risorse Possibili Perché questa qui Mi dà più l'idea Appunto Di via Più Nascosta Quindi magari Ok Abbiamo un po Meno vita Di prima Pazienza Ho l'iniettore Non sa di Ah si Ho un iniettore Ok Aspetto Usarlo Ok Andiamo giù Allora qui Guardo di qua Stavolta E qui c'è La cassa Ah vedi Qua c'è Via C'era mica una trappola Però Non posso saperlo Io la apro Convertitore Iniettore E munizione Perfetto No No Un colpettino E dai Viene da attaccare Più forte di me Ok Eh vabbè però Fiderà dietro Come fai Come facevi a girarti Cioè Il tempo di girarmi Non me l'ha neanche dato Vabbè Devo rifare sto pezzo A sto giro Facciamo così Uh Mi ha preso Bastardo Via la testa Ok Oh ma c'era ancora La bocca Dico Eh forse Dai adesso Possiamo anche Esatto Sì Ok dai È andata molto Allora Aspetta Rifacciamo Riprendiamo Dov'è che era Ah già C'era Quello Eh Aspetta Qui avevo V Qui no Ok Qui c'erano due colpi Li prendiamo Ricarichiamo Così E basta Qui Vediamo dopo Forse Questo non lo posso sapere Quindi guardiamo di qui Questo Ho solo voglia di Farsi sentire Ehm Ok Ok Vai Oh Ma qua non c'erano quattro colpi Prima Quindi forse gli oggetti Cambiano Sono randomici C'era la vita Se non sbaglio Abbiamo Sette cose Adesso siamo messi meglio Quindi Ti fanno prendere La La cassa Te la fanno prendere Poi però E però poi davanti e dietro Il tempo di girarti Non te lo danno Non è che questi Sono già qui No Devi No Scendono O Vengono qui Solo se Apri la cassa Ma questo Io Non sempre Le vedo Eh no Non c'è nessuno Maledetti Allora Ok No Aspetta No L'ho schivato Eh Vabbè Ma dai Cosa ho le spalle C'è C'è Tio Tio sappia Non c'è un modo Per girarsi Però Vabbè Allora Niente Allora mi sa che mi conviene Forse Subire la trappola Da questo lato Pensare dopo Alla cassa Che forse qua Ero messo meglio Adesso vediamo Però Maledetti Fatevi vedere Porca Dai Perfetto Qua Eh L'ho visto un po' male Però Oh Posto Oh Si Ok Abbiamo fatto bene A ritornare Di qua Quello è sceso Però poi Alla fine Ci siamo messi Meglio Con tutti e due Davanti Almeno Basta A sto giro Vedere Eh Ho sei colpi A sto giro No L'iniettore Aspetta un attimo A usarlo Vita gialla Va bene Dai Allora Prendiamo la cassa Allora Se non arriva Nessun altro Andiamo Ok Ok Infatti Erano solo C'erano programmati O per Apparire Dopo che È aperto la cassa Oppure A mo' di trappola All'altro lato Va bene Quindi qua Forse si torna su Forse Sbloccata Sbloccata Ah ma Sì Questo era Bloccato Da questo lato Sta porta Eh sì Eh infatti Vedi Che era una via Quindi ci sono vie Un po' più Imboscate Eh però Adesso Se dovessi morire Ti devo rifare Tutto Ma qui ho già Ma no Qui ho spaccato Prima Oppure no Scusa Vedere Sì Era qui Dico bene Si è ricreato Il vetro Eh sì Che non c'è niente Vabbè Qua Ok Tanto qui Non mi puoi fare Niente Ok Muoviti silenziosamente Vediamo se riusciamo a prenderlo alle spalle Dai Il giro fatto Sa che mi ha visto No Ah no Sì Adesso l'altro Ok Ok Non è semplice Ok Non è semplice Capire Quando ne fanno due Quando ne Eh Eh vabbè Vabbè Ha salvato qui Oh male Ma non è che un semplice Capire Quando ne fanno due O uno Di attacchi Quindi uno Aspetta Devo agire Cioè Devo andare subito Che sennò Sennò Questo si gira E poi Ok Ok Aspetta eh Proviamoci Dell'altro Se torna indietro Non lo so Eccolo Vero che vai dritto Di là Bravo Vado 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 Ok Perfetto Ok La vita Ha bloccata C'è roba Sembra di no Eh Vabbè Vabbè Ma bloccata Aspetta Eh Mi sembra un piccolo cieco Non ho visto qualcosa Eh Non posso aprirla Devi trovare Delle credenziali Di sicurezza Cerca qualche guardia Morta nei paraggi Ah Trova il cadavere Di una guardia Sarà qui No Ah Ce n'era una Aspetta Qui Ce n'è una Ah Scusa la lama Per estrarre l'impianto Aspetta Cosa Non hai scelta È l'unico modo Per passare Da quella porta Che schifo In questo posto Si fa ciò che è necessario Mi cambia dentro Sergente Eric E' morto Tanto Nuova registrazione Vedi Conseguenza Registrazione I detenuti Radevano al suolo Il blocco Ho dovuto sigillare La porta Mi riceve qualcuno Sì Ufficiale Jane Direttore Coll Dove si trova Nella mia torre Osservando Ma Perché Che succede A fine di un lungo viaggio Secondo me è pazzo Il direttore Divido all'area medica Oh c'è sempre Il rumba Qui Dov'è? Ah qua dentro Possiamo No Peccato Tu volevi fare L'agguato Ok Ti sei un po' Ok Carichiamo Quanti colpi abbiamo No Ah nove Molto bene Molto bene Dobbiamo centellinare Sbloccata 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 Nulla Ah lavanderia Ah lavanderia Ah C'è scritto Sixers Non ho detto bene Non c'è niente Controlliamo Controlliamo Da un cestone No Sbucca qualcuno Un'altra cassa Un'altra cassa Cos'è Aspetta Ah un altro Identificativo Deciduto anche lui Ma va Ah voi siete Tutti morti Non avete capito Cioè Partitore Munizioni Iniettore salute Benissimo Ne abbiamo Due Tre Ottimo Che non vengono Raggruppati Trappolone Ah Ah ma qui Ma si poteva interagire Anche Ma che roba Cos'è Un po' Due Vabbè Sì Ascoli Non faccia Scherzi Se devi venire giù Venga giù Acqui Non c'è niente Vai Inventario al completo Ah quindi di là Non si può andare Quindi 12 colpi È il massimo Possono essere Raggruppati Orca vacca Vabbè Se adesso qua Sb... Uh È qui Ah meno male Brillano Se no io Non li avevo Vi Non li avrei Visti Ok Vabbè Se qua Sbuca qualcuno Usarò la pistola Così Quindi Ti qua Zona extra Diciamo Eh però io Tipo Un Un indicatore Un qualcosa Tipo Dead Space L'avrei messo Che così Andando un po' A naso Eh Rischio magari Di perdermi qualcosa Manutenzione Manutenzione Ha salvato Quindi non so se Ah lì ci ho giunto Aspetta È di là È di qua Spero C'è il rifornimento Tutto No apri Apra sta porta E anche qua E anche qua È di là Di là Ha salvato Quindi magari È proprio Importante C'è proprio La via secondaria Però non lo so Come faccio A saperlo Anche di qua C'è una via Forse questa Quella principale Posso andare Di qui Ah sì Chi è Che si lamenta Eccolo Ah sono in due Dai Oh botte Ho sbagliato No Ok Ah la via Aspetta Ah ma no Sono tornato Ok Di qua Ok beh Qui non Possiamo andare Eh boh Dai però Che dubbi Però lì Il rifornimento Dice qui Manutenzione Io non so Noi dobbiamo andare Ha detto All'infermeria Non mi ricordo Già più No Non mi ricordo più Che qua c'è Ha individuato L'area medica Ok Eh Aspetta che ricarico E sarà Per di là E sarà per di là O per di qua Salvando di lì Secondo me Forse è quella La via principale Qua c'è anche una porta Bloccata Quindi è probabile Che andrà sbloccata Dall'interno Quindi vediamo di qua Pensandoci Però sti condotti Li fanno sempre Belli grandi Che ci passa Proprio bene Un infetto Cioè O se poi Manchiamo qualcosa Io Non posso Saperlo E di qui Vediamo se salva E qui però Sembra proprio Andiamo Dove siamo finiti Ah E qui si va proprio giù Però poi magari Sbucchiamo di là Eh Vabbè Senti Non posso sapere Mille mila ragionamenti Però Eh Vedi Sì Ah Qui c'è una scala Aspetta Per risalire Fa vedere Qui ha salvato Sbloccata Secondo me Questa è proprio La zona Rifornimento Però non c'è niente Aspetta Sporchiamo la porta E infatti Va che siamo ritornati qui Ah Non c'è niente Dai Ora andiamo giù Non c'è nulla Mi aspettavo Cose No Vabbè Torniamo giù Vediamo Proseguiamo di lì Se si può proseguire Penso di sì Spero non si chiuda Cos'è sta Ah Con dei tavoli Però è in un luogo Un po' nascosto Qui Ah Questo è il direttore Questo sarà il mio ultimo rapporto da qui Il rinnovo della torre è quasi completo E il programma? Riattivato sotto la supervisione della dottoressa Mahler Che cosa spera di ottenere? Risultati Dopo decenni di ricerca alla cieca Non capisce? L'evoluzione non è in laboratorio Ma in natura Questo secondo me Sto direttore Voleva Elevare La razza umana Compiendo Esperimenti Bla 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 Munizioni Inventario al completo Che cos'è? Sono altre munizioni Eh no Converti Eh non ho Aspetta Eh Eh cazzo Rilascia Facciamo una cosa Eh Usiamo Ok Intanto ne abbiamo due E tra le munizioni e l'altro Munizioni ne abbiamo dodici Ecco Prendi questo che possiamo venderlo Ok Eh Che Oh Quindi sì sì Ok Qui è la via Diciamo Bonus Ok Eh perché di là Ha salvato subito Come ho aperto la porta Quindi Era chiaro Era chiaro Ma non troppo Qui una delusione Sto Sto luogo Qui di rifornimenti C'erano giù I rifornimenti Ok Qua abbiamo sconfitto Tutte e due Quindi siamo a posto Io avrei messo Qua un bel negozietto Ma non c'è Aspetta No qua c'è una teca Ma non c'è niente Vediamo se Eh Non mi risalvo Maledizione Ma è che posso salvare Io mi sa Dal menu Devo ancora provare I salvataggi Manuali Grazie Yourself